Rieccoci per affrontare adesso il pre-gara del nostro Amato Palermo di domani a Bolzano contro il Sul Tirol, partita che capita in un momento molto delicato per quanto ci riguarda che si viene da due risultati negativi, ovvero una sconfitta e una vittoria e un pareggio quindi è un partita molto delicata per noi sebbene ricordiamoci che il nostro primo obiettivo è e rimane la salvezza poi se viene altro, che ben venga il Sul Tirol giocherà con un, chiamiamolo classico, 4-4-2 Poluzzi in porta De Col Vinetot, Zara e Celli in difesa Tait Belardinelli Luca Fiordilino ex di turno che ricordiamoci ha giocato a Palermo prima del fallimento e Matteo Rover a completare i 4 di centrocampo e l'attacco affidato a Mirko Carretta giocatore che tante volte ci ha punito e Rafael Odogui Mentre invece per quanto riguarda il nostro Palermo abbiamo il solito 3-5-2 di Eugenio Carini e abbiamo Mirko Pigliacelli in porta Matteo, Nadelciaru e Graves a comporre la linea difensiva a centrocampo i soliti Di Mariano, Segre, Gomez, Saric e Marco Sala ovviamente Di Mariano e Sala le fasce con attacco il nostro numero 7 Gennaro Tutino e il nostro bomber Matteo Brunori sarà una partita molto complicata anche perché il Suttirol cercherà di vincere come ogni squadra che affronteremo e quindi sarà una partita non facile mettiamo subito l'emba in avanti perché sebbene siamo Palermo sebbene siamo la quinta città d'Italia sebbene tutto quello che vogliamo ma ricordiamoci che veniamo da un percorso che ci ha portato dalla serie D alla serie B e non dalla serie A perché tanti pensano perché siamo la quinta città d'Italia siamo una bella tifoseria che subito dovremmo salire in serie A ripeto se viene ben fatto sia ma chi lo dice che per forza dobbiamo salire in serie A al primo anno cioè difficile non impossibile ma difficile andiamoci con calma poi se viene la serie A diretta se viene la serie A primo anno onestamente anche io sono il primo a ad esserne felice ma nello stesso tempo se non riusciamo ad andare in serie A non è mica una tragedia come detto partita molto complicata perché il Zutiroldo cercherà di fare la sua partita come la cercherà di fare anche il Palermo il Zutiroldo sappiamo che è una buona squadra che hanno dei giocatori in grado di poter fare tanto ma anche noi dalla nostra abbiamo giocatori anche come Segre come Saric come anche in panchina abbiamo anche Bro abbiamo Soleri Lancini cioè abbiamo dei giocatori che o bene o male ci possono aiutare a ad andare più avanti possibile in campionato detto questo speriamo un buon risultato ricordiamo che si gioca domani alle due dallo stadio di Bolzano che vediamo se riesco a trovare il nome ma qui è difficile no non lo trovo in questo cioè pensate che sono sul sito Mediagol quindi non sempre ti dà il nome dello stadio avversario detto questo ricordiamoci sempre Forza Palermo ricordiamoci sempre di sostenerlo anche nella sconfitta anche in caso di sconfitta perché tanti si fanno tipo il doppio gioco ovvero quando vince il Palermo quando quando le cose vanno bene sono tifosi del Palermo quando invece le cose vanno male ah ma che squadra è ah ma che che società c'è i giocatori sono tutti dei bidoni l'allenatore è è inadeguato ma ricordiamoci che i giocatori sono uomini come tutti noi possono sbagliare come possono indovinare e e sinceramente criticarli sempre non non è una cosa buona certo rammaricarsi per la sconfitta ci sta criticare per criticare per essere costruttivi non per criticare per dire quello che non va perché ricordiamoci che sbagliare è umano e a volte a volte gli errori si pagano come come anche al di fuori del campo del resto detto questo vi saluto una una buona serata buon buon riposo per chi giustamente va a riposare e forse a palermo sempre a domani di fuori del campo